Il giorno è particolarmente impegnativo, difficile, però come vi ho detto non è importante pensare alle difficoltà ma sarà importante arrivare preparati, perché sarà un mese difficile e dobbiamo arrivare veramente molto molto preparati. Il caldo sarà un fattore? Mi riferivo proprio a questo, dobbiamo pensare di avere delle riserve, quindi dobbiamo prepararci molto bene dal punto di vista fisico perché sarà un campionato del mondo dove l'aspetto fisico sarà determinato. Ma noi è tutti i giorni che troviamo tre campioni mondiali nello stesso girone? Sì, è un girone forse più difficile ma è anche affascinante, quindi partiamo con difficoltà ma con la comprensione, con sicurezza e possiamo far bene.